La domanda da cui siamo partiti era, è possibile riutilizzare le vecchie cisterne greche e romane per immagazzinare acqua? C'è un piccolo paese della Calabria, Cleto, che ci ha riservato molte sorprese. Questa qui è una cisterna, probabilmente è una raccolta all'acqua. Facendo lavori di ristrutturazione nel locale abbiamo trovato questa botola, abbiamo scavato per la curiosità e anche un po' di speranza di trovarla perché all'interno del centro storico ce ne sono molte. Vorrei lasciarla così, a vista. Io mi sono dedicato con un mio gruppettino di studenti a ragionare proprio sull'idea di come poteva essere questo abitato tolte le abitazioni più recenti. Nell'esplorare questo mondo inelevato ci ha permesso di entrare nei sotterranei. Le ricerche che cosa hanno permesso di evidenziare? Tutta questa struttura rupestre come era articolata, con le scale, con i canali, con i pozzi, con i silos, con le cisterne. Il percorso dell'acqua scendeva lì e arrivava alla cisterna. Bellissimo quello lì, ecco, le cisterne. Queste sono le comunicazioni. Queste, ecco, se tu vedi qua, e questa è... Le ricerche archeologiche fatte nel castello che ha messo in evidenza la presenza di questi enormi silos scavate nella roccia per conservare prevalentemente le derrate alimentari. Ora è evidente che queste strutture sono perfette anche per conservare l'acqua. Abbiamo verificato la presenza sia di fosse che sono inequivocabilmente legate alla conservazione del grano, ma anche di fosse che erano sicuramente destinate a conservare l'acqua. Del resto, l'uomo, nell'immaginare come avrebbe non costruito ma scavato questi luoghi, ha sempre cercato la traccia dell'affioramento di acqua. Dove non era così evidente, così sfacciata la presenza dell'acqua, andava a ricercarla con queste gallerie sotterranee che esistono in molti luoghi, che chiamano proprio in dialetto i grutti d'acqua. Si entrava proprio nel ventre della terra per andare a intercettare le sorgenti. Questo ci riporta a una dimensione mediterranea, come un richiamo immediato ai canat, i grandi canali che sono presenti in tutto il mondo mediterraneo. Quindi una civiltà dell'acqua che si è sviluppata andando a intercettare ogni singola goccia disponibile, perché anche una singola goccia che finiva nelle vasche, nelle cisterne, nei canali, era una fonte preziosa. E' evidente che le nostre comunità dovrebbero recuperare gli spazi che avevamo destinati all'acqua, un nuovo legame col territorio, quasi alla maniera antica, che ci permetterà di andare avanti. I luoghi dell'acqua devono costantemente rappresentare la memoria dell'acqua, quindi ricordarci che senza questo bene non possiamo fare niente.